Certo non riguarda Palermo e non riguarda Silvio Berlusconi la storia dei flop alle partecipazioni, siamo usciti dalla nostra postazione del live blog dentro il padiglione della fiera, ci hanno detto dei passanti che c'erano ancora molti, ma moltissimi pullman che comunque non potranno arrivare a vedere Silvio Berlusconi, forse in questo sta il motivo del ritardo iniziativa, continuano ad accedere dall'ingresso principale della fiera i pullman organizzati, molti sono ancora a lungo, sia notizia arrivano fino al porto, quindi sarà circa un chilometro di code di pullman per arrivare all'accesso. Ci sono in questo momento che intrattengono presso i viari della fiera gli sbandieratori, c'è tutta l'area sinistra dei gadget, dentro ormai la sala è piena, l'avete visto, non si ha idea di dove potranno stare queste persone. Non sappiamo se c'è un'organizzazione con il maxischermo, ecco, è lì, adesso troveremo andare in quell'area là e oltrepassare quell'area là.